Ancora a politica il Movimento 5 Stelle corre da solo alle provinciali, obiettivo partecipazione democratica e rinnovamento della politica e sul tema della difesa delle piccole e medie imprese servono fatti, non parole, dicono i grillini. Sentiamo. Rinserra le fila e cerca sponde sul territorio il Movimento 5 Stelle in vista delle elezioni provinciali di ottobre, ma senza compromessi. Il movimento che si riconosce nel leader nazionale Beppe Grillo corre da solo e stimola gli elettori a non rimanere passivi. Difficile ma non irrealizzabile il fine primo e ultimo del Movimento, la partecipazione diretta, la democrazia integrale. Lo ha rimarcato il deputato 5 Stelle Alessandro Di Battista in Trentino sul lago di Caldonazzo nel pomeriggio per sostenere la campagna elettorale dei pentastellati. Io sono di Roma e darò una mano e metterò a disposizione della mia esperienza. Io credo che con la fantasia, la creatività e coinvolgendo davvero i cittadini trentini si possono fare delle cose straordinarie. Siamo all'inizio di questo processo di democrazia diretta che è appena partito, il Movimento 5 Stelle è un momento molto molto giovane, forse sta andando avanti in maniera lenta ma è inesorabile. I cittadini, ribadisco a cominciare dagli trentini, si devono mettere in testa che nessuno li potrà salvare, nessun grande uomo politico li potrà salvare. O si salvano loro stessi attraverso la partecipazione smettendo di delegare, cioè di incrociare le braccia e di pensare che arriverà un salvatore, un politico che li aiuterà. Questo non succederà mai. Di Battista proprio ieri a Montecitorio non ha risparmiato critiche al Parlamento e alla Presidente dell'Aula, Laura Boldrini. Non abbiamo approvato neanche una legge che ne dicano i saputelli del PD e del PDL, di iniziativa parlamentare. Abbiamo fatto una ratifica di un trattato internazionale e poi solamente decreti legge, cioè in pratica poche persone comandano. Sul fronte dei programmi e delle esigenze delle piccole e medie imprese, tema centrale di questo scorcio di campagna elettorale, Filippo De Gasperi, candidato del movimento alla presidenza della provincia, ribadisce che servono fatti e non parole. Se ci sono forze di governo che per 60 anni hanno portato avanti il nostro paese e l'hanno portato alle condizioni che vediamo tutti, quindi diciamo sull'orlo del fallimento, dall'altra parte ci siamo noi, ci siamo presentati agli elettori in febbraio, abbiamo ottenuto il successo che tutti hanno visto e stiamo portando avanti, con i fatti, quello che abbiamo scritto nel nostro programma. Quindi abbiamo costituito un fondo per le piccole imprese con i risparmi sui compensi ai nostri parlamentari. Una delle poche certezze in vista delle elezioni provinciali sarà probabilmente ancora una volta l'astensionismo. Questo potrebbe favorirvi e come? Dopo un risultato non troppo entusiasmante però alle amministrative di Pergine. All'amministrative di Pergine avevamo un gruppo che era appena nato. L'importante sul territorio è essere, lavorare, lavorare tanto, lavorare per farsi conoscere, per farsi vedere, per risolvere i problemi contingenti. Questo non succederà in provincia perché il gruppo è forte, lavora da un sacco di tempo e sta creando il programma con i cittadini, quindi coinvolgendoli. È impossibile che andremo male. Grazie a tutti. Grazie a tutti.